Come è andata a casa sua? Non ho trovato informazioni su parenti, ma credo che abbia vissuto all'estero. C'era una valigia con l'etichetta della Union Castle Line. Del Sudafrica, vero? Chiederò di controllare la lista passeggeri. Jax dice che conosci la segretaria di Broom, Vexin, è vero? Un tempo, non ci vedevamo da anni. Conoscerà tutti gli scheletri nell'armaglio della famiglia, vedi che riesce a farti dire. È un'amica, più o meno. È una sospettata. Che cos'è questa roba? Niente, probabilmente. Quando dici niente significa qualcosa, avanti, sputerrospo. Ci ho visto qualcosa di strano tutto qui. Nell'appartamento di Malison ce n'è un altro paio simile, Cribbencoe. Non sono in molti alla catena di montaggio della BIC a calzare scarpe fatti a mano, non crede? No. No. Grazie a tutti.